Alba Antonella Parietti è una conduttrice televisiva, opinionista e attrice italiana. Agli inizi della sua carriera ebbe una breve esperienza come cantante, ed era nota con il solo nome Alba. Non tutti sanno però che proprio nel periodo d'oro della sua carriera, negli anni della massima esposizione mediatica, Alba Parietti visse un vero e proprio dramma, uno con la D maiuscola che la costrinse a prendere una decisione molto difficile. È stata lei stessa a raccontarlo a distanza di tempo. Quando aveva 37 annile, fu diagnosticato un tumore al collo dell'utero causato da una degenerazione del papilloma virus. Poteva essere l'inizio di un calvario, ma grazie a un intervento chirurgico, riuscito alla perfezione la showgirl piemontese guarì completamente. Alba Parietti scelse in quei drammatici momenti di non parlare della malattia con nessuno. Solo pochissime amiche ne furono a conoscenza, per il resto anche il figlio Francesco Oppini venne a saperlo dopo un po' di tempo. Per fortuna a distanza ormai di oltre un quarto di secolo la malattia non si è più riproposta. Alba Parietti gode di ottima salute, e non ha più avuto problemi da quel punto di vista. Il tumore resta solo un lontano a sgradevole ricordo.